Lazio perde con l'Inter una partita clamorosa, scandalosi Lazio veramente siete una squadra di merda Sarri sei un allenatore di merda, accidente a chi lo rivolrebbe alla Juventus, madonna vi pigliere tutto da schiaffi voi e quest'allenatore di merda che vince 1-0 e poi si fa rimontare, si fa superare, si fa annientare, si fa ridicolizzare da un'Inter normalissima, da un'Inter normalissima a perdere gli errori dei singoli che questo Sarribo, questo Sarrismo mi sa che in testa gli è entrato a corrente alternata fate cagare, cioè ora io devo vedere il prossimo anno in Champions League una squadra di merda come la Lazio che va fuori sicuramente a Gironi ma io me la devo vedere, perché? perché questa è la mediorità di campionato italiano, è un campionato di merda siete tutte delle squadre di merda, fate schifo, noi compresi perché la Juventus in questo momento fa cagare il cazzo, ma voi dovete stare tutti zitti perché in Napoli quest'anno ha vinto questo scudetto contro il nulla, il nulla basta, non mi rompete i coglioni, scrivetemi i commenti quel che cazzo vi pare ma vince contro il nulla